Come Kuwait siamo presenti a Fleet Manager Academy con Cartissima, il nostro prodotto che si presenta con due novità, il nuovo web portal per funzionalità sempre più avanzate per i nostri clienti e la nuova app Cartissima Kuwait per una migliore e ottimale user experience dei nostri clienti attuali e futuri. Quindi Cartissima Kuwait come prodotto evoluto, innovativo, che si sposa perfettamente con le esigenze e le richieste dei Fleet Manager delle varie aziende di piccole e medie grandi dimensioni. Per supportare i Fleet Manager nella gestione efficace della loro flotta, Cartissima Kuwait gioca un ruolo fondamentale e determinante. Cartissima Kuwait è una carta sicura con i massimi sistemi di sicurezza più evoluti, una carta facile da usare su un network di oltre 3.000 stazioni di rifornimento in Italia, digitale quindi anche su app e per pagamenti digitali e una carta flessibile. Io, Fleet Manager, posso avere la carta fisica di plastica, classica, oppure posso optare per la carta virtuale. Posso selezionare tutte le funzionalità sul portale Cartissima per avere la gestione della mia flotta in maniera più efficiente possibile, quindi un prodotto completo a 360 gradi. Cartissima Kuwait nel gennaio-febbraio 2022 avrà tre elementi di novità. Uno, CO2, quindi il Fleet Manager potrà vedere da portale Cartissima web il controllo delle emissioni CO2 della sua flotta. Da portale Cartissima quindi potrà decidere di procedere con eventuali acquisti di carbon credit. Due, servizio di ricarica elettrica con l'app Cartissima Kuwait, il Fleet Manager potrà far sì che la sua flotta si potrà ricaricare del servizio di ricarica elettrica. Un servizio molto richiesto dai Fleet Manager che sarà possibile sia su punti vendita della rete Kuwait, sia su colonine di ricarica esterne alla rete vendita carburanti. Ultimo punto, Cartissima Kuwait diventa più internazionale, va all'estero. Da gennaio sarà possibile rifornirsi in Francia, in Belgio, Olanda, Spagna e Slovenia.